musica 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 sono morto da dietro, dall'uac basta basta che costruita è impossibile contro sta gente sono dei boss finali non ti credo sono dei spontinatori no è stato il grande schmack che ha scritto il void? smektrum smektrum ti ha anche i PR this year smektrer è la bomba void dentro void rombato non riesco si ma basta è difficilissimo da guidare bene ma al pacifico mi dovete buttare si ma in moving qua fai le porcate ci lasci le penne giuro ma ci rischio di lasciare le penne ora figurati in moving anzi sono morto mi sa fuori dalle palle fuori dalle palle stefano aiuto non ti posso vedere quel cercano bravissimo ma vecchia una porcata è inguidabile cioè è inguidabile sta c'era gente qui davanti niente davanti davanti sì 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 eh ma cosa fa? ma cosa fa? è un tampone è un tampone è un attenzio snipe no però no però questa non era da vedere sei un ladro del maledetto sta venendo no 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 ma che c***o sto guardando guardando dai ma questo sanno tutto dai non è possibile che ci aspettano sempre ma dai il satai ma ma oh chi è il piz qua? ma cosa è successo? adesso è piatto no stiamo andando su valorant e non ci stessa niente ah ok ok dai io vi lascio giocare al valorant ciao piz ciao 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 così gran porcate non si sa entro dentro mi chiedono di fillare per valorant che sono qua il sato nero manda anche tu un messaggio con scritto nella bomba al 1 1 1 3 1 31 41 per sostenere la scrivania di pizza con una preghiera al papato di monaco il sato nero che ve lo giuro c'è un cartone che si stacca internet e non pleso perchè c'è da tirare i portoni qua c'è da svegliare il condominio abbiamo giocato bene zeoladro maledetto anche aggiungerei vado a fare dei game sul valorista parla adepto del caos solo per te eh me lo devi concedere non te la prendere sul personale però guarda senti il rumore l'hai sentito bene? non te la prendere sul personale eh per l'amor di dio però questo è il rumore che che è giusto che si senta no mi perdoni ma non me la sento per andare sul valoranzio deve essere successo qualcosa di grave ma come me la prendo sul personale? non se la prendo non se la prendo eh se finisci sul valoranzio tolgo la stanza piuttosto che va veramente bello però non so se dargli da mangiare stasera per l'assestamento forse è meglio di no dici che ti rimane sulla stanza? cioè non vorrei mai fargli un dispetto capito? oh 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 è stanno andando a mangiarsi la lumachina no vuole la lumachina c'è una lumachina minuscola nel vetro e vede cose ma io che gioco sto giocando cioè questo no p***o uno di vita uno di vita dallo squirre al lulu sarà pure una dai non farmi indirittare per cose che calma vada 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 respiro profondo no no basta the guy next to me is odette Dunque he's unite han ha best content in itas partner of twitch um fcc Sì Comunque ha phasedato L'avete visto tutti Porco demonio ladro Questo ping ha anche meno uno Ping ha anche meno uno il bavoso Il mintax Una solidità che sembra di fightare Il mitragliatere Il mitragliatere proprio Non il mitragliatere Un fenomeno Siamo in 7k Un saluto al teatro Allora Ma non c'è mica Aldo Giovanni e Giacomo Cioè 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 400 È la seconda Cioè 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 Siamo quasi di 2004 Prima del valoranzio Se proprio fossi in emergenza Andrei Prima di tutto Su Formula 1 Col volante Se non vado su Formula 1 Col volante Vado su Penso MotoGP Col controller Nel caso Piva Qui in emergenza Zale GTR P Quinta opzione Valoranzio Che ci ha speso Gran bombe sul Valoranzio Io ci ho speso Gran bombe sul Valoranzio Me ne pento Beh Buon Dio me ne pento E me ne dolgo anche Gentilmente Me lo faccia dimenticare Mi faccia un frullaggio Centrifugueros Perché Veramente ci ho speso 200 bombe Sul Valoranzio Grave Sono un pezzo di Lo ammetto Me lo ricordo anch'io Quel giorno Però Oscar sei un bastardo Perché non me lo ero ricordato Ora mi hai fatto ricordare Anche sta cosa Insieme al fatto che Non l'abbiamo pescato In click up Io ti time out Io adesso ti time out Oscar Così vedi di far meno Il simpatico Per te 10 minuti stasera Brutto gesto 6-10 minuti Come minimo Siete senza mod Chat ve lo dico Senza mod Ho time outato il moderatore Per brutto gesto Rimane il Simons Con le bandane Time outato Oscar Meritato anche Per 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 sgambetto Brutto gesto Dopo non aver Playsato Mi fa ricordare Le 200 bombe Forse anche 300 Non vorrei ricordare Cerchiamo di dimenticare Sul valoranzio Non ci possiamo lasciare le pennacce Allora sono teammate No non sono teammate Ma che c***o sto facendo Perché prendo questo a picconate Volevo prenderlo a picconate Per risparmiare i colpi piccoli Ho detto adesso Dai risparmio Risparmio Dai Mi sono fatto trapanare Che bracino corto Ma ho capito C'avevo 18 colpi piccoli Sì Sì Smekiii Se mi stai guardando Pinatum in live Nonino Voi No No Sì 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 Ma dove c***o è questo? Molido Grazie grazie È bello Guarda come viaggia Non ci pizza Sino te Adesso lo posso dire Pizze è arrivato Ha detto Ho preso 250 euro di pesce No 140 Io ho detto Stasera si mangia la diva Allora E poi ho dato D'acquario Pensavo che ho detto Svectro non vuole la carne Qui stiamo a prendere Il pescheria di pesce Invece c'è niente Vecchio Pesto qua Ti dico Penso che siamo Sulle due calorie Cos'è Dicciamo Cos'è Mite Bro Quasi Comment Cuasi Quasi Quasi Spar Quasi 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 Grazie a tutti